Cari amici ben ritrovati, guardiamo insieme anche per oggi la situazione medioclimatica della nostra zona. Ancora l'alta pressione nordafricana estesa sul Mediterraneo centrale a far da padrone su tutta l'Italia, determinando ancora a bel tempo e temperature quasi estive. Al sud giornata decisamente estiva, cieli sereni e limpidi ovunque ed anche sulla nostra provincia giornate a zedoni estivi, con temperature ben oltre la media climatica di aprile, comprese tra 13 e 24 gradi. I venti di debole intensità soffriranno da sud-est ed il mare nel canale sarà poco mosso. Sul litorale tiranico giornata serena e temperature miti, comprese tra 15 e 22 gradi. I venti saranno prevalentemente deboli e soffriranno da nord-nord-est e da est-sud-est nella notte ed il martireno sarà quasi calmo. Ed anche sul litorale ionico sole e bel tempo per tutta la giornata, temperature miti comprese tra 15 e 23 gradi. Venti deboli soffriranno da sud-sud-est ed il mare non sarà poco mosso. Nella giornata di domenica 29 aprile ancora una giornata serena, particolarmente sul messinese. Una in nuova nuolosità è prevista invece nella provincia. Le temperature sempre calde si porteranno ai 26 gradi durante il giorno e minimi di 11 nella notte. I venti deboli soffriranno da sud-est ed i mari saranno quasi calmi. Il terreno poco mosso lo ionio. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani.